Ciao, oggi parliamo degli scavi di San Casciano dei Bagni con un'archeologa. Eccoci qui di nuovo insieme per parlare di storia, di storia antica, in particolare degli etruschi. Negli ultimi periodi sicuramente avete visto in tutti i telegiornali foto di ritrovamenti di statue di bronzo del periodo etrusco-romano. E allora ho detto forse è giunto il momento di aprire una nuova rubrica nella quale parliamo dell'attualità, delle notizie che sentiamo ai telegiornali spiegate ai bambini da degli esperti. Su questa notizia sono particolarmente emozionato perché San Casciano dei Bagni si trova vicino al paese dove sono nato, dove sono cresciuto. E quindi sono molto legato e sono contento che sia il primo tema di questa nuova rubrica. Per farlo però mi sono dovuto avvalere di un'esperta, ovvero Ginevra, che ha lavorato a questi scavi e ci racconterà quello che fa, le sue emozioni. Sarà un momento molto molto interessante sicuramente. Allora diamo il benvenuto a Ginevra. Eccola qua. Ciao a tutti. Appunto mi chiamo Ginevra e sono un'archeologa dell'Università di Firenze e ho lavorato, ho partecipato alle ricerche del santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni. E io sono molto emozionato a Ginevra perché, come ho appena detto, è molto vicino. Io sono di Chiusi, originario provincia di Siena e il posto dove sono stati fatti questi ritrovamenti lo conosco bene. Sono i primi giri quando si iniziava a guidare la macchina, tanto tempo fa ormai. I primi giri io li facevo proprio lì, se andava ai Vasconi, a San Casciano. Quindi è particolarmente emozionante anche perché comunque sono molto legato anche alla storia degli Etruschi, quindi fa doppiamente piacere. Quindi ecco, ti chiedo un attimo di presentarti e di un po' spiegare a me, ai bambini, a chi ci guarda, cosa fa un archeologo, che strumenti usa, perché è importante l'archeologo ai fini della storia, della ricostruzione storica. Allora, l'archeologo si occupa di ricercare appunto informazioni sulla storia antica tramite gli oggetti e i contesti che vengono studiati appunto durante le fasi dello scavo. Lo scavo in realtà non occupa tutto l'anno nella vita di un archeologo, ma è solo una parte e è proprio la parte del raccoglimento dei dati, è proprio il momento in cui cerchiamo di analizzare il contesto nel quale ci troviamo. E questo viene fatto tramite varie strumentazioni che in realtà alcune, diciamo proprio attrezzi nel vero senso della parola, quindi pale, picconi e insomma tutti gli attrezzi che fanno parte del quotidiano dell'archeologo, ma anche strumentazioni ad alta tecnologia che ci servono proprio per ricostruire, per non perdere nessun dato, perché quello che fa l'archeologo sostanzialmente è un'azione distruttiva. Noi priviamo le generazioni future di poter comprendere quel contesto, perché ci stiamo lavorando noi adesso, quindi tutti i dati devono essere raccolti con veramente un'attenzione minuziosa e quindi utilizziamo tantissime attrezzature, anche i droni che ci servono per avere le visioni dall'alto, le foto aeree e diciamo quindi è un lavoro che richiede saper fare tanto e ognuno di noi in realtà ha anche la sua specifica diciamo. Giusto perché noi nell'immaginario, nei libri vediamo l'archeologo che scava e quindi uno se lo immagina in continuazione a scavare, a trovare cose, però giustamente come dici te bisogna avere una cura particolare nei dettagli perché se troviamo un oggetto e poi non sappiamo riferire dove è stato trovato, non siamo delicati nello scavo, nella raccolta di tutti i dati, si perde perché la storia è un'indagine, la parola storia dal greco significa indagine, quindi voi trovate reperti all'interno degli scavi e ci dovete non solo fornire il reperto, ma proprio i dati intorno a quel reperto. Esatto, cioè la cosa importante è ricostruire la storia tramite anche il terreno all'interno del quale vengono ritrovati i manufatti, che appunto ci dice tantissimo, ci dice se quel determinato strato si è formato per abbandono, si è formato in un momento di cambiamento, di rinnovamento del contesto nel quale ci troviamo e questo è fondamentale ai fini appunto della ricostruzione della storia. E poi tutti questi dati vengono interpretati in un secondo momento, in una seconda fase, quando gli scavi finiscono d'inverno, perché appunto anche tutte le nostre strumentazioni che non possono lavorare in condizioni meteorologiche non adatte, e quindi durante l'inverno c'è proprio la fase di elaborazione del dato, dove viene interpretato e cerchiamo di capire come quell'oggetto, come quella formazione di strato sia avvenuta in relazione anche alle altre, alle fasi successive e alle fasi anche antecedenti. Quindi cerchiamo, diciamo, di dare un contesto e di studiare quello che abbiamo raccolto durante lo scavo vero e proprio, ecco. Questo è il motivo per cui Bambina, il telegiornale, quando sentite di un ritrovamento, anche gli stessi di San Casciano dei Bagni ultimi, dopo viene detto sempre dai giornalisti, avremo poi successivamente maggiori informazioni, perché appunto ora finisce l'attività di scavo, poi come giustamente diceva Ginevra, c'è la fase appunto di elaborazione dei dati, che è fondamentale tanto quanto lo scavo. Esatto, sì. Ecco, io sono molto emozionato perché io da bambino, come ho detto, no, ha chiusi, poi mia mamma anche per un periodo ha provato a fare la carriera d'archeologa e io da piccolo, quando c'era un cantiere, andavo sempre a spulciare se magari trovavo un bucchero, no? Da noi c'è il, come si dice, il mito di trovare il bucchero, il tesoro famoso di Re Porzenna, ci sono tanti piccoli miti, magari un giorno ne parlerò in un video. Ginevra, io ti ringrazio perché già ci hai detto tante cose importanti, non so se vuoi aggiungere qualcosa proprio sullo strumento di archeologo o passiamo un po' agli scavi, dimmi te. Poi magari potremmo anche fare un secondo video un giorno in futuro proprio sull'archeologo in generale. Ma allora sostanzialmente appunto gli strumenti sono strumenti che uniscono il lato più tecnologico a quello diciamo più manuale e analogico, ecco. Dallo scalpello al computer. Esatto, esatto. Su uno scavo archeologico puoi trovare un rilevatore GPS come una pala, ecco. È un luogo dove coesistono tante cose, tanti strumenti e soprattutto ora con tutte queste nuove tecnologie ci aiutano e ci facilitano tantissimo alcune fasi che prima ovviamente venivano fatte a mano come ad esempio il rilievo che ora non facciamo più a mano ma che lo facciamo appunto tramite una strumentazione specifica che ci aiuta in questo tipo di ricostruzioni, ecco. Bene. Allora io ti dico entriamo un po' nel vivo, no? Perché appunto il giorno dopo questi ritrovamenti anch'io in classe ho fatto vedere tante foto, abbiamo un po' discusso, ma poi magari qualche riflessione dei miei alunni te la riporto, in modo tale che poi magari ne parliamo insieme. Allora ti chiedo, se ne è parlato in tv da poco, ma da quello che ci siamo detti, che mi hai detto anche quando ci siamo conosciuti, non è una cosa solo di poche settimane fa, è una cosa che da dura più tempo questo scavo di San Casciano dei Bagni, quindi ti chiedo di introdurcelo e di spiegarci quello che magari i giornali in un minuto di servizio non hanno il tempo e la possibilità di dirci. Grazie. Allora, lo scavo inizia nel 2020, quindi è un anno abbastanza difficile, ecco, come per tutti gli ambiti è stato difficile anche per la ricerca, e abbiamo sostanzialmente iniziato da zero. Ecco, sapevamo che nella zona doveva esserci appunto questo santuario legato alle acque, perché appunto, come dice anche il nome del paese stesso, San Casciano dei Bagni, questo nome è riportato così da tempi antichissimi, proprio perché è caratterizzato questo luogo da queste sorgenti naturali, calde, che da sempre sono venerate dagli antichi, perché appunto l'acqua è considerata un'acqua sacra, un'acqua che ha delle enormi proprietà mediche e salutari, e quindi ci si rivolgeva a queste divinità proprio per chiedere salvezza per la propria salute. E quindi questo scavo inizia nel 2020, e noi già in realtà dal 2020 abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni a livello proprio di scavo e di ricerca. Quest'anno c'è stata molta risonanza da parte dei media, sostanzialmente perché davvero il deposito di bronzi, di manufatti che sono emersi, è stato davvero qualcosa di notevole, da un punto di vista storico, da un punto di vista di conservazione, perché il fatto che noi all'interno della nostra vasca sacra abbiamo ritrovato questi ex voto, quindi questi doni che le persone facevano alle divinità... Ecco, perché la parola ex voto per un bambino è molto difficile, noi ci abbiamo messo un pochino per farlo capire ai nostri bambini, l'ex voto, che è una pratica anche della religione cattolica, praticamente di tutte le religioni, nel momento in cui si chiede una grazia, un miracolo, una preghiera, se questa veniva esaudita, allora il fedele, che sia etrusco, che sia romano, che sia dei nostri tempi, portava nel santuario una statua di bronzo, che può essere un oggetto comunque per ringraziare la divinità della grazia ricevuta, ecco. Esatto. E la cosa importante è che in realtà ovviamente le statue hanno fatto un particolare scalpore, ma noi all'interno della vasca abbiamo ritrovato tanti materiali, anche materiali diversi, come ad esempio sono state donate delle pigne, tantissime pigne, perché ognuno donava quello che aveva a disposizione, e chiaramente non tutti, non tutta la popolazione poteva permettersi la statua di bronzo di un metro, ecco, per cui ognuno donava... Quindi anche monete, anche monete, come noi nelle fontane. Esatto, anche piccoli bronzetti di offerenti molto ridotte, appena bozzate, appena disegnate, e questo, insomma, ci fa rendere conto che era un posto, un luogo che abbracciava le richieste e le preghiere di tante persone provenienti da vari luoghi, probabilmente, che si recavano proprio in questo posto per ricevere anche i benefici proprio dell'acqua, di quest'acqua salutare, molto calda, intorno ai 40 gradi. Molto calda, lo confermo, perché anche io dal ragazzo ci andavo a fare i bagni proprio lì accanto con gli amici, quindi è veramente... Dopo pochi minuti già si sudava di caldo. Esatto. Anche in inverno. Quindi... Però questa cosa che dice Ginevra mi emoziona molto, perché la storia, a parte gli eventi, la ricostruzione dei fatti, è bella perché ci fa vedere che l'uomo, che noi siamo sempre così, anche due, tremila anni prima di noi perché e anche di più, perché il gesto della monetina sulla fontana per chiedere, per esprimere un desiderio, no? È la stessa che... È lo stesso gesto che poi si modifica nel corso della storia, no? Quindi c'è tanta umanità, l'uomo è sempre così. Esatto. Cambiano gli strumenti, ma poi il significato è sempre quello e è questo secondo me la cosa bella che ci insegna la storia, no? Certo, ma è anche proprio la cosa che emoziona a noi che eravamo lì a vedere per primi questi manufatti. Cioè, comunque ti senti anche molto vicino a qualcuno di totalmente sconosciuto vissuto duemila anni fa. Senti una connessione, senti che c'è qualcosa che appunto che alla fin fine siamo esattamente come hai detto te, tutti uniti da un enorme filo conduttore che ci riporta... Che questa probabilmente è proprio la nostra natura, il chiedere, l'andare in determinati posti, il tornare in determinati posti per chiedere una determinata cosa che può essere chiesta alla natura stessa, che può essere chiesta a una divinità. E questo, diciamo, è un aspetto, è l'aspetto, penso, più forte di chi fa ricerca, ecco, e di chi ha la mia stessa passione. Sì. Ok. Allora io ti chiedo perché comunque questo ritrovamento ha entusiasmato. Ha entusiasmato perché le foto su internet, le visite del ministro della cultura, i servizi al telegiornale e si è fatto un paragone molto importante e vorrei chiederti se questa cosa è propriamente giusta oppure secondo te è fuorviante. Perché si è paragonato questi scavi al ritrovamento del bronzi di Riace. Per i bambini due statue di bronzo molto grandi ritrovate circa 30 anni fa. Ti chiedo, ma questo paragone è azzardato o ci può stare? Allora io penso che l'unica cosa che condividono i ritrovamenti di San Casciano e i bronzi di Riace è semplicemente il bronzo ecco. Ok. Perché diciamo che in realtà i bronzi di Riace intanto sono di dimensioni quasi maggiori del vero quindi si parla dei colossi delle statue gigantesche cosa che noi non abbiamo per ora poi chi lo sa in futuro per adesso non abbiamo rinvenuto di dimensioni del genere e poi c'è anche da dire che provengono da due culture completamente diverse perché i bronzi di Riace provengono dal mondo greco e sono di fattura greca quindi diciamo paragonarli a dei manufatti etruschi insomma più che un po' azzardato diciamo c'entra un po' poco visto che comunque è stato è stato un titolone ecco è stato un titolone diciamo che è servito per far capire quanto effettivamente possa essere forte l'impatto di questo ritrovamento però anche solo il fatto che i bronzi di Riace è stato un ritrovamento fortuito è stato un ritrovamento avvenuto per caso esatto su questo Ginevra scusami vai 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 no dicevo che noi stiamo conducendo una ricerca ai fini proprio della messa in luce di questo contesto quindi diciamo è stato diverso anche questo esatto proprio qui ti volevo dire una cosa esatto hai centrato il punto di quello che ti volevo chiedere perché la grande differenza oltre a tutto quello che hai già detto delle dimensioni e della cultura la grande differenza è anche che i bronzi di Riace sono stati trovati fuori dal loro contesto mentre quello che avete trovato voi è proprio dentro il santuario quindi ne possiamo capire il significato ne potete io no voi me lo dire però insomma si può capirne la storia esatto con i bambini si è ragionato molto su questo perché era un concetto un po' difficile io gli ho detto ai bambini bambini se trovate una saponetta in bagno potete capire come c'è finita per terra no se trovate la saponetta per terra mi posso immaginare che la mamma che il babbo gli è caduta e non l'hanno ripresa se trovo la saponetta in cucina è più difficile capire come c'è arrivata esatto ecco io ho fatto questo paragone forse anche questo è un po' azzardato però mi sembrava che da lì avessero è calzante più che altro appunto l'importanza di questi dei ritrovamenti a San Cascano dei Bani è stata proprio questa e noi abbiamo trovato questo contesto praticamente intoccato per cui ci permetterà permetterà anche a chi è molto più competente e capace di me nello studio insomma di queste cose di capirne il significato fino in fondo di provare diciamo a dare un senso fino in fondo a questo tipo di ritrovamenti che appunto sono anche stati recuperati e sono rimasti in delle condizioni esageratamente esageratamente integre questo grazie al fango domanda questo grazie al fango e all'acqua che hanno creato come si dice appunto un ambiente anaerobico cioè un ambiente privo di ossigeno che quindi ha bloccato la decomposizione di qualunque cosa quindi noi ritroviamo anche materiali vegetali materiali organici che in genere si distruggono noi all'interno del nostro contesto li abbiamo ritrovati proprio perché il fango ha permesso questo mantenimento incredibile di tutto quello che è stato buttato dentro ecco la vasta e quindi questo dà possibilità di indagine molto più ampie rispetto ad altri scavi allora io io Ginevra ti ringrazio non abbiamo ancora finito però insomma un po' per dire a chi ci sta guardando di potete trovare su internet varie varie domande varie immagini altri video esplicativi questo video purtroppo è registrato perché abbiamo provato a fare la live più volte abbiamo avuto delle delle difficoltà però speriamo che vi sia piaciuto che vi sia sia stato utile io sicuramente Ginevra ti rinviterò perché un video non basta e sicuramente ci sono tante altre cose da dire magari quando verranno fuori nuove notizie potremo riparlarne però non ti lascio ti lascio ancora un po' di tempo però volevo fare questa chiosa prima di concludere e ti voglio chiedere di darci sul lato personale delle le emozioni dei racconti perché io ti assicuro che non dico che mi sono messo a piangere però i brividi quando ho visto quelle foto li ho sentiti li ho sentiti forte quindi mi posso solo immaginare lontanamente quello che tu i tuoi compagni di scavo potete aver provato in queste settimane in questi anni quindi ti chiedo di donarci a conclusione qualche emozione qualche ricordo qualche aneddoto allora sicuramente è stato è stato qualcosa che ha fatto venire i brividi anche a noi perché insomma pure nella vita di un archeologo non è assolutamente scontato lavorare in un posto del genere non è assolutamente scontato ritrovare materiali del genere a volte si scava per tanto tempo per tanti anni tante campagne magari non riuscendo neanche per bene non ti dico a trovare niente ma proprio a capire il contesto mentre invece qua abbiamo avuto un riscontro fortissimo e io in determinate situazioni alcuni di quei bronzi insomma mi hanno davvero provocato una forte emozione anche perché comunque sia si rinvengono nel fango quindi quando li tiriamo su ce li guardiamo ce li studiamo li guardiamo nei dettagli cerchiamo di poterli li guardiamo all'infinito perché veramente è qualcosa che dà una fortissima emozione anche a chi si pensa essere più abituato e invece no nessuno è abituato a questo tenere fra le mani un qualcosa che l'ultima persona che l'ha tenuta fra le mani lo ha fatto duemila anni fa e più devo dire che è davvero una fortissima sensazione questi bronzi mi hanno davvero regalato i bronzi come tanti altri ritrovamenti in realtà nel santuario mi hanno davvero dato delle fortissime delle fortissime emozioni anche di di comunanza e di vicinanza pure con i miei compagni che ci siamo sentiti tutti insieme di condividere qualcosa veramente di di incredibile che al di là di dove la vita ci porterà veramente ce lo porteremo dietro per sempre Gineva io ti ringrazio veramente grazie della tua della tua esperienza delle tue competenze che ci hai dato oggi in questo video e sicuramente l'ho già detto ma sicuramente ti chiederò di fare qualcos'altro insieme e concludo con una una piccola riflessione no perché la mia tesi di laurea proprio fu sull'utilizzo delle fonti materiali per la didattica della storia e il titolo era quando le pietre parlano perché abbiamo tante pietre le trovate sicuramente voi ne trovate tante ma bisogna farle parlare no perché come dici te se le troviamo fuori contesto parlano difficilmente no se non abbiamo le conoscenze non le sappiamo apprezzare quindi io ti ringrazio Gineva perché il vostro lavoro ci permette da tante pietre bronzi materiali di parlare di parlare di raccontarci di farci emozionare ma grazie mille a te guarda è sempre un piacere parlare del mio posto del cuore ecco benissimo allora bambini insegnanti genitori tutti voi che ci state ascoltando noi vi ringraziamo vi invito a iscrivervi al canale e a seguire e a seguire il canale nei vari social facebook instagram telegram per rimanere aggiornati anche su eventuali nuove interviste vi saluto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao